Hola, mi chiamo Gianna Campostrini, ho 40 anni, vivo a Santiago, Cile. Le mie origini trentine sono a Savionara di Avio, mia mamma che è arrivata in Cile per l'immigrazione nel 1952 e sono il coordinatore dei circoli trentini dal Cile. Numero di circoli presenti 3, Copiapò, Serena e Santiago. Le attività che svelgono i circoli sono come corso di lingua e attività sociali. Arrivederci!